We'll make it happen, we'll turn it around, yes we were going to make the story We're going to make the story Pippo e Miki e bentornati nella mia discarica Oggi siamo qui con un nuovissimo video in cui faremo dei test di personalità un po' a caso Se ne avete altri da consigliarmi, mi raccomando, strani, a caso, totalmente a caso Fatelo qui sotto nei commenti perché possiamo tranquillamente farci un secondo episodio Partiamo subito! Il primo quiz che vi propongo oggi è un grande classico Quale Winx sei? L'ho già fatto in passato perché io in realtà sono un grande fan delle Winx, ok? La mia preferita è Musa E spesso uscivo o Musa o Flora perché alla fine sono quelle un po' più simili a me Però vediamo subito chi ci esce oggi! E soprattutto fatemi sapere che Winx siete Scegli la qualità che ti descrive meglio Intelligenza, spontaneità, creatività, sportività, dolcezza, coraggio Mi piace pensare creatività Cosa guardi in tv? Documentari sui viaggi alla natura Programmi di cucina, serie tv Reality show sulla moda Videoclip musicali e talent show Canali dedicati allo sport Io non guardo la tv Tra questo, boh, serie tv Il tuo colore preferito? Viola, verde, rosso, azzurro, giallo, blu Tra questi direi il blu Scegli uno specialista Sky, Brandon, Timmy, Riven, Elia, Nex Chi è Nex? Non me lo ricordo Il mio preferito è sempre stato Elia È l'amore della mia vita Hobby preferito? Fare giardinaggio Leggere, giocare videogiochi Fare shopping Ascoltare musica Sport Giocare videogiochi Però è un lavoro, ok? No, vabbè, è uscito Musa La fata della musica Sei proprio come Musa Una fatina creativa e sensibile Sempre con la testa tra le nuvole Vivere nel proprio mondo è fataloso Ma non bisogna dimenticare che c'è l'universo là fuori Tutto da esplorare E adesso proseguiamo con Quale bibita sei? Andiamo sempre più nella scala fashion, raga Io vi avviso Potete chiudere il video finché reggete Poi non garantisco Dove ti si può trovare? Al party? Non solo al party Allora, vicino al buffet Immerso una discussione filosofica approfondita In bagno abbracciando il vader Prima o poi Facciamo una discussione filosofica Quale sarebbe un posto perfetto per un teta-teta romantico? Ovvero il solantino francese Barco al karaoke Il mio salotto Il mio salotto Da non mi piace uscire Quale cane preferireste avere come animale domestico? Un pastore tedesco Un golden retriever Un chihuahua Golden retriever Mi rivedo molto nella figura del golden retriever Cos'è indispensabile per un'automobile? Che sia potente e da sballo Che mi porti da A a B L'impatto sull'ambiente Infatti preferisco la bici Ma che mi porti da A a B Poi me la personalizzo come voglio Cosa faresti se ti offrissero un lavoro in un ristorante fast food? Cosa dovrei fare? Lavorerei Licenzierei subito Il giro di due anni diventerai il direttore di filiale Ma lavoriamo Sei una fata Riprendendo il quiz di prima Se una fata ti chiedesse di esprimere un desiderio Cosa le chiederesti? Trovare il grande amore Trovare fame e ricchezza Di darmi 100 desideri in più Ma 100 desideri in più non si può Poi gli rischi che non li gestisci Poi è una trama da film drammatico che va allo scatafascio Io voglio la fame e la ricchezza Come riscriveresti i tuoi amici? Non ho amici No allora Un branco di impazziti Una squadra di amici fedeli Un circolo di amici piccolo ma raffinato Piccolo ma raffinato Sei un whisky raffinato Perché sono un whisky raffinato? Dimmi un po' Sei una persona matura e astuta E non ti fai portare a spasso da nessuno Non te ne importa niente di impressionare la gente con superficialità Piuttosto preferisci assaporare i piccoli dettagli della vita Va bene Va bene lo accetto Andiamo al prossimo Questo si prospetta essere uno dei migliori Abbiamo qui che marca di sigarette sei E niente Sono molto curiosa Quindi iniziamo Sei ad una festa Che tipo di persona sei? Quello che se ne sta seduto perché si vergogna Quello che pensa solo ad ubriacarsi Quello che bala senza vergogna Quello che cerca di mantenere i suoi amici in vita Ma non è che io bevo tutte ste feste No io me ne sto seduto perché mi vergogno Alcolico preferito Non ho assaggiato nessuno di questi Io preferisco lo sprit Crimino tua fantasia sessuale Facciamo che cambiamo test Finiamo amici con Quale verdura sei? Ti sei mai chiesto che verdura sei? Sei fatto a strada come una cipolla? Sei chiuso il tuo bozzolo come un legume? O sto lì pro aperto come un fiore di zucca? Non lo so Iniziamo Se fossi una verdura Dove vorresti finire? In una zuppa In una pizza In un'insalata In una ratatouille In una pizza In quale reparto del supermercato Acquisti di più? Prodotti generali Snack Cibi surgerati Formaggi o latticini Snack L'ammetto O snack o bibite Se fosse una verdura Come ti definiresti? Succosa Tenera Marcia o fresca? Tenera La verdura la preferisci? Grigliata Fritta Al vapore O cruda Ma grigliata è molto buona Fritta anche Però grigliata è molto buona Tra questi frutti Qual è il tuo preferito? Fragola Ciliegia Banana O mela Ciliegia Quando mandi maggiormente La verdura A colazione A pranzo O sputti del pomeriggio A cena A cena Quali tra questi ingredienti Usi maggiormente in cucina? Limone Basilico Rosmarino Noce Moscata Forse il limone Quale tipo di sapore Ti piace di più? Dolce Amaro Salato Speziato Salato Ogni giorno Quanto tempo dedichi Alla cucina di solito? Ma di solito poco Però mi piace Quindi direi anche Ci passerà il giornale intero Tra questi qual è il tuo gusto originato preferito? Vanilla Cioccolata Menta O fragola Vaniglia Di che colore ti piace vestirti? Verde Rosso Giallo O blu Ma rosso mi piace Come potete vedere Ho una felpa rossa Ho una coperta rossa Mi piace il rosso vestito Se fossi una verdura Da quale personaggio famoso Ti vorresti far mangiare? Leonardo Di Cabrio Cristiano Ronaldo Tiziano Ferro O Fabi J Ah Tiziano Ferro Dai mi sono simpatico La tua stagione preferita? Primavera è stata Autunno Inverno Autunno La tua cucina preferita? Italiana Francese Giapponese Americana Giapponese Sono enormi Tra queste verdure Qual è quella che ti piace di meno? Sedano Rucola Ravanelli Aspar Madonna la rucola no La rucola no Al rogo Quale tra questi cibi preferisci solitamente? Cibi leggeri Cibi spazzatura Cibi talati Cibi dolci Salati Festa preferita? Natale Pasqua Compleanno Non ho feste Natale Ti piace stare in forma? Mi piace essere una dieta sana Molto Mangio solo e faccio palestra Faccio poca attenzione Potrei fare di più Faccio poca attenzione Potrei fare di più Ma va bene così Non me ne frega assolutamente niente Quali tra questi programmi tv sulla cucina è il tuo preferito? Mass chef La prova del cuoco Quattro ristoranti Non seguo programmi Ma in realtà non seguo programmi di cucina Prima mi piace Health Kitchen Tra queste cose Qual è la cosa che conta di più nella tua vita? Amore Felicità Soldi O amicizia? Felicità Sono un pisello Sono un pisello No no Sono un pisello Gender euforia Tranquilla e riservata Ti piace ammirare il mondo dall'esterno piuttosto che da protagonista Di solito non piace uscire Di solito non piace uscire E la tua natura gentile e premurosa Ha reso la tua casa un santuario davvero unico Dove puoi prendere una pausa dalla vita quotidiana Ma è filosofico raga Ci ha azzeccato Ha ragione Cioè è serio Cacchio Sono un pisello raga Detto ciò amici Per questo video è tutto Fatemi raccomando anche voi i quiz E fatemi sapere i vostri risultati Perché sono veramente curioso Fatemi anche sapere qual è stato il vostro preferito E se ne avete altri da consigliare Perché possiamo assolutamente farli Io vi invito ad iscrivervi Se non siete iscritti Commentate, lasciate like Fate quello che vi pare Perché a casa vostra Possiamo fare i piselli Insieme E niente Ci vediamo nel prossimo video Ciao I piselli Ciao Ciao Non è che, non è che volo nel posto Non è che, non è che volo nel posto